Sono scoppiato a causa del troppo lavoro. Voglio smettere di lavorare. Voglio vivere senza lavorare. Se ne parla spesso in certi ambienti e ci sono i soliti fuffa guru che danno consigli e raccontano storie a cui molti credono. In altri ambienti c'è invece chi spiega che il lavoro eccessivo fa male alla mente e al fisico. In questo video ti parlo di lavoro eccessivo o insoddisfacente e di un libro che invita a smettere di lavorare. È innegabile che in certe situazioni il lavoro eccessivo faccia male. È un dato di fatto provato scientificamente. Ma negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso della cosiddetta sindrome da burnout, cioè quelli che sono scoppiati a causa del lavoro. Quelli che vivono una condizione di apatia causata dall'esaurimento di tutte le forze cognitive ed emotive. Ne avevo già parlato insieme a un altro fenomeno nato negli ultimi anni, quello del Great Resignation, cioè l'aumento delle dimissioni dal posto di lavoro per cercare qualcosa di più soddisfacente. Per approfondire ulteriormente l'argomento ho comprato un libro dal titolo Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso, La fine dell'incantesimo di Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Un libro che però ho trovato assolutamente inutile. Sapevo cosa avrei trovato in questo libro e sapevo anche che non l'avrei condiviso. L'ho comprato perché, come dico sempre, non bisogna mai limitarsi a leggere o ascoltare cose che confermano le nostre teorie o i nostri orientamenti. Per sviluppare il giusto pensiero critico bisogna leggere anche cose che non condividiamo. Il titolo del libro Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso, La fine dell'incantesimo è accattivante, ma nelle 228 pagine non ho trovato molto di utile. Gli autori, attraverso esplorazioni storiche e ricognizioni del presente, vorrebbero spingere i lettori a riflettere sulle origini e gli sviluppi del concetto di lavoro, ma secondo me non ci riescono molto. O meglio, fanno propaganda. Mi è sembrato un manifesto grillino a favore del reddito universale. Parlo di quello che, in qualche modo, vorrebbero far passare come malessere collettivo e universale legato al lavoro, considerato ormai una forma di schiavitù patologica. È vero che nella nostra cultura il lavoro è visto spesso come unica forma di realizzazione nella vita, mentre sarebbe opportuno trovare equilibri diversi, perché il lavoro non deve essere fatica e sfruttamento, può essere molto di più. È vero che esistono situazioni di sfruttamento inaccettabile ed è anche vero che bisognerebbe combattere molti squilibri e disparità, però bisogna farlo in modo sensato e pragmatico, con proposte serie e concrete, non dicendo che bisogna smettere di lavorare e basta. Gli autori parlano di precarietà e futuro del lavoro spiegando che questi termini hanno assunto un significato totalmente diverso per le nuove generazioni. Anche questo è vero, ma teorizzare che bisogna abbandonare il lavoro per tornare a essere nuovamente liberi mi sembra una cazzata, soprattutto perché non propongono alcuna alternativa. Parlano dello sfruttamento da parte dei padroni in modo molto grossolano, mettendo nello stesso calderone certe grosse aziende che sicuramente esistono e approfittano pesantemente dai lavoratori e micro imprese che devono fare i salti mortali per sopravvivere in mezzo a difficoltà di ogni genere. Fanno discorsi populistici di bassissimo livello, come quando paragonano il carico fiscale degli artigiani africani con le tasse pagate da Tesla, senza considerare i miliardi di investimenti e le migliaia di posti di lavoro creati da Elon Musk in quell'azienda, omettendo di specificare oltretutto che Elon Musk paga comunque decine di miliardi di tasse. E soprattutto evitando di spiegare che sarebbe molto più efficace insegnare ai contadini africani a fare investimenti per la crescita e per il miglioramento della propria vita, anziché lanciare il solito messaggio inutile di togliere ai ricchi per dare ai poveri. Gli autori parlano anche di certe loro esperienze personali tipiche di molti lavoratori precari odierni, ma non propongono veramente niente di alternativo. Sostanzialmente dicono che dovremmo tutti smettere di lavorare, ma non dicono che dovrebbe occuparsi, per esempio, di creare tutto quello che serve per consentire a loro di scrivere libri, realizzare i podcast e tutte le altre iniziative che seguono, oltre che ovviamente soddisfare le normali esigenze quotidiane. Non propongono alcuna visione, non dicono chi dovrebbe pagare per mantenere tutti quelli che invitano a mollare il lavoro. Mi sembra di sentire cazzate come quelle di chi dal balcone di Palazzo Chigi proclamava di aver abolito la povertà e prometteva case ristrutturate gratis per tutti e sappiamo come è andata a finire e abbiamo sotto gli occhi la voragine economica che hanno lasciato e che peserà sulle spalle di tutti noi per anni. Insomma, il solo concetto che condivido del libro è che non dobbiamo pensare che il lavoro sia l'unico scopo della nostra vita, posizione che ho sempre avuto. Quindi ritengo queste pagine un'occasione sprecata per proporre qualcosa di costruttivo su un argomento sicuramente determinante per la vita di tutti noi, cosa che ho fatto io in diversi video come ad esempio questo che ti suggerisco di guardare. Prima però metti un like a questo video, condividilo e se non conosci il nostro canale YouTube Ruraledigitale ti consiglio di visitarlo toccando questo logo. Iscriviti perché troverai molte informazioni utili. Per contattarmi vai sul sito ruraledigitale.it